Torna a Forlì la scuola di filosofia Praxis arrivata quest'anno alla quarta edizione, una scuola che ha già in lista 70 partecipanti provenienti da tutta Italia, ma che prevede anche momenti aperti alla cittadinanza. Gli incontri si svolgeranno dal 27 al 29 luglio alla Sala Ex Consiglio del Palazzo della Provincia. Il tema è il possibile reale, sarà organizzata in due momenti, la mattina noi avremo la nostra scuola riservata agli iscritti e poi gli stessi relatori della mattina nel pomeriggio affronteranno le stesse questioni affrontate nel corso della mattinata per il pubblico forlivese, quindi avremo una sessione di lavori aperta al pubblico. Una scuola di filosofia ma anche un incubatore di idee, questo è l'obiettivo? Sì, la nostra idea è quella di fare un laboratorio di ricerca. Per noi la scuola di filosofia Praxis è un laboratorio di ricerca dove si producono idee e abbiamo chiamato, credo, i giovani, i più brillanti, imprese che lavorano in ambito filosofico in Italia e in Europa a partecipare a questa nostra iniziativa. La nostra idea è che la filosofia sia una forza creatrice, sia una potenza capace di trasformare il mondo e che quindi si debbono creare dei luoghi nel quale questa creatività può trovare la sua espressione adeguata. Grazie.